Un atteso ritorno, Edoardo De Filippo. Grazie a tante, grazie a te. Impareggiabile interprete di sette brillanti commedie di Edoardo stesso e di Scarpetta e di un famoso dramma pirandelliano. Richiedete all'167803000 il cofanetto con otto videocassette a sole 520.000 lire. Telefonando gratuitamente all'167803000 vi assicurerete le ultime otto opere della prestigiosa raccolta Il Teatro di Edoardo. Con Videorai e Fonicetra, Il Teatro è di casa. Sato va buono, eh?